Abbiamo fatto tanta strada insieme. Abbiamo cantato, ballato e giocato per celebrare la passione per il nostro lavoro. Siamo l'Italia che lavora. Siamo quelli che guardano avanti e non si fermano mai. Ma adesso no. Questo è il momento di fermarsi. È necessario restare tutti fermi ai box, pronti a ripartire più forti di prima. Perché la vostra sicurezza viene prima di tutto. U-Power